La sesta creazione collettiva Se l'applicazione fosse semplice Associare l'estetica con la semplicità In modo che possa diventare un fenomeno commerciale Cioè qui siamo in un momento di ricerca Che può in qualche modo influenzare il futuro Adesso se mi seguite vi porto dove andiamo a fare il lavoro Ok? Fabio? Qualcosa in contrario? Vincenzo? Grazie a Giorgio Grese Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sicuramente è un'applicazione che ci fa ragionare Perché si avvicina a quello che era stato richiesto Quindi è un'applicazione semplice Però che avesse un po' di carismo Mi sembra che questa qui sia una cosa su cui possiamo ragionare Make up the world Grazie a tutti 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 Grazie a tutti